...gli stivali. Vuoi ragguagliarmi? Allora, vediamo. Ha tentato di aprire la porta di casa sua con la chiave della macchina perché non ha la faccia troppo del Midwest. Non fa sesso dai sei mesi. E ha mangiato una mosca. Davvero? Da sei mesi? Che bello, un forziere, sono ricca! Livello 3, pensa di essere ricca. Che gniubba!